Speriamo che non si stia frugando con questo boi. Quei qui? Quei zio! Enzo, tu sei a posto? E' sempre muricando, zio. Tutto bene? E' Aici. Un caccio verde! E' enorme! Dopo mettiamo il reggaeton. Mi zio. Ronaldo II. Enzo, mi ha detto il tuo padre che sia più forte dei mesi. Bum bum bum. Faglielo vedere, Kiko! Uuuuuh! Eheh! Leggero film mio! Enzo, c'è Cristian. Ti conosco troppo bene. Sei fisso sfasciato. E mica lo so. Cosa ti credi? Poi ti beccano in giro fuso. E' una bagassa. Minca la verità che sono fisso sdallato come un mufflone. L'altro giorno, eh. Era questa serata e praticamente mi son bevuto in un montone mojito. Ero in merda molto, capito? E a un certo punto ho iniziato a cercare i mesi. Quando vuole, dove vuole, comunque sia. A me non mi deve guardare perché lo smazzo. E c'ho paura. E o dai, alla fine è serio, dai. Ultimamente a Bulli stiamo andando a giocare, minca squartaratt. E io poi chiaramente ci tocchiamo gli sprizzettini in scioltezza. E cosa fai? Lo sprizzo col tagliere ci sta sempre. Fisso ciò patti? Infatti giocando sto fisso sbrinando male. E niente, poi le solite cose. Passeggiata nel corso a vedere se c'è selvaggina. Poi a volte col mio amico Checco a fare puttante un rimpianone. E quando si sono fatte alle 4 del mattino, spatulliamoci, facciamo una cannetta e andiamo a dormire. Venga, tu se fai guardato a male. Ehehehehehehehehehe. Hehehehehehehe.